Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto ILVA, lo ha comunicato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, in aula alla Camera. L'ennesima fiducia al decreto sull'ILVA è un ulteriore schiaffo alla Camera dei Deputati e alla democrazia parlamentare che il Governo dei Tecnici ha sempre volutamente calpestato. A parlare la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Manuela Dallago. Quello sull'ILVA, dice, è un decreto delicato sul quale tutti i gruppi parlamentari hanno avuto modo di confrontarsi con spirito costruttivo. Tanto è vero che sono stati presentati pochi emendamenti in aula. Noi riteniamo che sia un decreto che indubbiamente deve essere approvato, perché è un decreto che ha estrema urgenza. Non siamo d'accordo con tutto ciò che è stato inserito nel decreto. Alcune cose, è stato accettato anche un emendamento della Lega che prevede anche una progettualità per mettere in salvaguardia di tutte le aree laddove si lavora l'acciaio, eccetera. Quindi non solamente l'ILVA. Quello che credo ci infastidisca di più è che un decreto su cui le due commissioni hanno lavorato molto celermente, su cui sono stati presentati pochissimi emendamenti per permetterne l'approvazione in aula nei tempi previsti e richiesti dal Governo prima della chiusura delle Camere, oggi ci si venga a dire che il Governo ha intenzione di chiedere la fiducia. Io credo che ci sia un assoluto non rispetto del Parlamento anche perché la paura del Governo è che possono venire approvati degli emendamenti proposti dai parlamentari. Credo che il Parlamento serva a questo per provare anche a cambiare e il fatto che il Governo, anche su un decreto come questo, chieda un'altra volta la fiducia, credo che non sia un bene né per i lavoratori di Taranto, né per l'ILVA, né per la democrazia in genere. Anche perché la Liga Nord chiede che se il Governo vuole tutelare l'ILVA, che vengano tutelate anche le piccole e medie imprese del Nord. Questo mi pare che sia un dato assolutamente in dubbio. Noi non dimentichiamo che quando parliamo di ILVA poi ci sono anche delle conseguenze al Nord, ma non ci dimentichiamo soprattutto che l'economia di questo Paese non è fatta da industrie come l'ILVA, è fatta dalle piccole e piccolissime imprese che in questo momento stanno morendo grazie, ed è un grazie ovviamente in senso molto negativo, a tutte le cose che questo Governo non ha fatto. Non ha aiutato le piccole imprese, non ha semplificato la vita delle imprese, non ha ucciso la burocrazia che uccide le imprese, non ha fatto sì che le banche potessero aiutare le piccole imprese, non ha correttamente applicato le direttive europee sui tardi di pagamento, in particolare quelle riguardanti pubblico su privato, perché quando fanno un decreto di applicazione della direttiva UE, ma tolgono dall'applicazione della direttiva i lavori pubblici, i costi della sanità e il pregresso, io non lo so, probabilmente chiedono a tutti gli enti di pagare la carta igienica appena arriva il conto, ma certamente non le cose importanti, quelle che interessano le piccole e piccolissime imprese.